bella gamers e bentornati sul nostro canale youtube andiamo appoggiare il telefono e torniamo finalmente nel panorama ps3 dopo tanto tempo questo perché perché sony ha aggiornato in settimana alla versione 4.91 la ps3 vuoi per pirateria vuoi per aggiornare qualche qualche fix sistemare scusate qualche fix l'ha fatto ok nel frattempo la community dei modder come n o evilnet stanno lavorando sopra appunto per fare il firmware nuovo moddato e proprio ieri sera il net ha fatto uscire il custom firmware 4.91 ed oggi siamo qui a parlare di questo perché il video che vi faremo vedere adesso è proprio per aggiornarlo in maniera semplice al 4.91 due cose importanti allora il custom firmware ragazzi non è per tutte le console ok adesso io qua vi metterò praticamente la lista dei seriali dovete andarli fondamentalmente a vedere dietro la console ok questo perché perché il custom firmware va bene per le ps3 fat va bene per le ps3 slim non tutte però occhio mi raccomando a guardare il seriale ma non va bene comunque per le ultra slim ok quindi mi raccomando se avete uno di questi seriali qua dateci un occhio e prima di partire col video dovete guardare fondamentalmente questo altra cosa importante questo video è fatto per chi ha già la versione 4.90 con n ok e può partire direttamente a vedere il video se non ce l'avete quindi avete aggiornato per sbaglio la 4.91 dovete aspettare ancora qualche giorno perché deve uscire l'aggiornamento per i toolbox che fondamentalmente è l'hack che ci serve per fare appunto il flash della memoria per installare il custom firmware ok se invece avete una versione originale di ps3 con 4.90 o inferiore dovete prima andare a questo video che mi metto sopra impressione che è il nostro video appunto di modifica della ps3 di aggiornare appunto la 4.90 con n dopodiché tornate a questo video e aggiornate tranquillamente la 4.91 quindi ripeto faccio un piccolo riassunto mi raccomando dovete controllare i seriali che vi ho messo prima qua sul lato ok ps3 fatte ps3 slim alcuni modelli mi raccomando possono continuare appunto con la modifica ultra slim assolutamente no perché caso un firmware non può essere utilizzato sulla ultra slim e potete continuare la modifica se avete una 4.90 o inferiore customizzata con n ok quindi modata già con n altrimenti se avete il firmware ancora originale 4.90 dovete attendere dovete scusare fare il video di aggiornamento che vi ho messo prima in descrizione ok mi raccomando quindi tutti questi passaggi sono fondamentali per districarsi diciamo nel nel panorama appunto della ps3 perché purtroppo ragazzi c'è veramente un grosso marasma e poca diciamo lucidità nel parlare di queste cose perché ognuno deve fare uscire il video il più fretta possibile il problema qual è che poi gli errori che vengono commessi sono principalmente il bricca delle console quindi mi raccomando seguite bene i passaggi seguite bene quello che ho detto adesso qua all'inizio perché ne vale appunto della vostra console rimanete comunque sempre aggiornati sul nostro canale attivando la campana delle notifiche scrivendovi questo perché perché fondamentalmente poi prossimamente usciranno anche i video di aggiornamento al custom firmware o a n dal 4.91 quindi per chi ha aggiornato dopo ovviamente per sbaglio uscirà appunto il video di modifica ok ragazzi ho detto tutto mi sono anche dilungato troppo detto questo come si dice bando alle ciance andiamo a fare la modifica allora ragazzi sotto impostazioni del sistema la prima cosa da fare andare praticamente a disattivare l'aggiornamento automatico ok lo vedete qua questo perché perché probabilmente se siete nella situazione di aver aggiornato al 4.91 è probabilmente dovuto a questo ok io vi faccio vedere intanto come siamo messi noi in questo caso eccolo qua che non mi ricordo mai dove perfetto siamo alla 4.90 con n ok eccolo qui adesso ve lo faccio vedere prossimo step andiamo sul browser internet schiacciamo triangolo adesso mettiamo un attimo fuoco allora si va su strumenti andiamo a eliminare la cronologia di ricerca e nuovo triangolo andiamo a eliminare la cache passo successivo andiamo a forma a inserire scusate la chiavetta usb formattata ovviamente in fat 32 sempre prendendo triangolo e andando su ricerca andiamo su questo sito qua ok che è ps3toolset.com gli diamo start ovviamente si deve caricare gli lasciate fare tutto il caricamento possibile adesso farà praticamente le sue ricerche ok analizzerà il sistema vostro della ps3 ok qua in alto una volta finito vi farà vedere appunto la versione del firmware il kernel è un checks ok che è presente sono le versioni standard ps3 ci recchiamo presente con la faccia con la freccetta scusate su system manager vi ricordo che la chiavetta usb deve essere inserita e questa è solo una cosa di praticamente di backup fondamentalmente per effettuare poi la modifica in maniera sicura ok andiamo su flash memory e facciamo save flash memory andiamo su usb e gli diamo save ci vorrà qualche minuto ok una volta finito adesso ci spostiamo sul pc ci sta che probabilmente si frizzerà la ps3 se si frizza non vi preoccupate ripetete lo stesso processo ok adesso chiudiamo e passiamo su sul pc una volta sul pc ci spostiamo praticamente su questo link qua ve lo linkerò chiaramente in descrizione ci andiamo a scaricare il ps3 checker ok download cosa ci servirà questo file ragazzi ci servirà per vedere se la vostra ps3 può effettuare praticamente tutto il discorso il passaggio al custom firmware di nminnet ci creiamo una nuova cartella e scarichiamo tutto il contenuto del file zip che abbiamo appena scaricato appunto dentro a noi ok ce lo mettiamo qua sulla sinistra nella parte destra invece ci apriamo una nuova finestra ok con praticamente la nostra chiavetta usb con il file dump.exe noi questo file qua ragazzi dobbiamo andarlo praticamente a buttare dentro il file .bat che trovate appunto nella cartella nuova ok lo andiamo a inserire dentro lui farà tutto il suo percorso ok avrà fatto tutto il suo check fondamentalmente e niente non ci sono problemi quindi ha dato tutto ok ora noi possiamo uscire qua abbiamo ovviamente tutto il reso conto il log e fondamentalmente noi questo file dump ragazzi lo possiamo copiare e incollare e ce lo teniamo da parte perché è la nostra ancora di salvezza ok lo teniamo qua per quanto riguarda il se per caso si dovesse briccare la console ok quindi tutto qua ok fatto questo andiamo a scaricarci il il custom firmware 4.91 evil nut ok scendiamo giù allora ragazzi prendete il file checks ok che sarebbe praticamente quello proprio per le console vostri di casa ok andiamo a scaricare sono 196 mega lasciamola andare e al termine ci rivediamo qua ok ragazzi allora una volta scaricato ovviamente un file zip quindi vi consiglio sempre di usare un'applicazione del tipo winzip, winrar o 7 zip per spacchettare ok quello che dovete fare è prendere la cartella ps3 andarla a inserire all'interno della usb precedentemente chiaramente formattata infatti 32 ok come abbiamo fatto negli altri video fatto questo ragazzi stacchiamo tutto ci buttiamo sulla ps3 andiamo a fare tutto quanto il processo di per inserire appunto il custom firmware all'interno della ps3 ok mi raccomando reinseriamo di nuovo la usb ok una volta di nuovo sulla ps3 ovviamente con la usb inserita ritorniamo su system manager ovviamente siamo nel browser internet ragazzi quindi dobbiamo arrivare nel punto esatto dovevamo prima ok appena caricato perfetto ci spostiamo su flash memory patch e facciamo load patch via http allora se per caso anche qua si dovesse frizzare ripetete lo stesso processo senza problemi ok finito questo chiudiamo riandiamo di nuovo su flash memory patch e questa volta facciamo apply loaded patch l'ultimo allora ragazzi questo mi raccomando è un punto di non ritorno quindi dovete avere la console compatibile appunto con il custom firmware altrimenti briccate tutto e rompete tutto quindi mi raccomando il video iniziale controllate il seriale della vostra console e vedete se è compatibile appunto con tutto fatto questo niente lasciamo andare ok ok ragazzi allora abbiamo finito il processo di scrittura a questo punto dobbiamo fare un riavvio della console ok quindi andiamo a fare uno spegni sistema a questo punto riaccendiamo e ci spostiamo sotto aggiornamento software aggiornamenti del sistema scusate facciamo aggiornare tramite supporti di memorizzazione abbiamo il nostro firmware nuovo 4.91 evilnet la versione appunto checks diamo ok ovviamente leggiamo tutto allora ci vorranno circa 10 minuti ragazzi eh quindi non vi preoccupate lo lasciate scorrere ok ci spostiamo a destra accetta e abbia lo lasciamo andare lo lasciamo andare ovviamente ovviamente andiamo a vedere se è tutto a posto impostazioni del sistema informazioni eccolo qua 4.91 4.91 ovviamente abbiamo vediamo se funziona il tutto ragazzi qua abbiamo tutti i nostri giochi e multiman vediamo un po' lo apriamo non c'è più da ovviamente selezionare N perché parte tutto in automatico ovviamente perché non è un ombrio enable ma c'è proprio il custom firmware sopra eccolo qua ovviamente riattacco l'hard disk perché sennò i giochi non li vede facciamo aggiorno ed eccoli qua facciamo partire un'arca ma va facciamo partire un'arca ma va eccoci qua avete visto finalmente siamo riusciti a modificare col custom firmware evil nut la nostra da ps3 l'abbiamo portata al 4.91 se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciateci un bel like iscrivetevi al nostro canale attivate mi raccomando la campanella delle notifiche mi raccomando iscrivetevi perché perché a voi vi basta un click a noi ci serve per migliorarci sempre di più ok quindi vi portiamo sempre più contenuti e soprattutto facili anche da usare per tutta la community ok se avete qualsiasi problema comunque ci trovate sul nostro canale principale telegram oppure con una piccola donazione potete entrare al nostro canale vip così vi aiutiamo anche in maniera più efficace vi ricordo anche che il martedì e il giovedì e anche il lunedì siamo in live con altri ragazzi sul nostro canale Twitch quindi iscrivetevi anche lì detto questo ragazzi io vi saluto vi ringrazio di essere stati con noi un abbraccio e al prossimo video da iGamers56k ciao a tutti